la presentazione del nostro staff tecnico della selva di pini abbiamo qui con noi emanuele penna ciao a tutti allora manuele quest'anno alleni categoria 2001 giusto il secondo anno che alleni questo gruppo questo gruppo sono fatti degli inserimenti nuovi di ragazzi nuovi o lo stesso gruppo rispetto a quello della costruzione c'è stato qualche inserimento alcuni sono andati via quelli che sono arriva sopra di sanno adesso è da poco che stanno svolgendo gli allenamenti che loro non sono venuti con noi con il gruppo dell'agonistica e ritiro perché ancora è una pre agonistica diciamo ancora scuola calcio l'esperienza da allenatore il secondo anno oggi hai fatto altre esperienze in altre società ho fatto esperienze a pomercia con un gruppo 99 un gruppo 2001 che poi è stato quello che ha seguito parte di quello ha seguito qui alla selva di pini hai fatto anche delle esperienze da cacciatore no? si con la sia caccio giusto hai giocato per parecchi anni a certi livelli e importanti ottenendo degli ottimi risultati togliendoti qualche soddisfazione nel campo non professionistico ma quasi l'ho detto io perché conoscendoti che tu non ami molto enfatizzare troppo la tua carriera calcistica perché è così perché è giusto poi da una parte è meglio che ne parlano gli altri allora niente allora noi siamo contenti la società è contenta di averti nuovamente qui per il secondo anno consecutivo per la teoria 2001 ti auguriamo una buona fortuna un buon campionato ci rivedremo sicuramente durante le partite di campionato per parlare dell'andamento delle partite del campionato di quello che sia ok? buona fortuna grazie tanto ci vediamo arrivederci al prossimo tervizio